Verranno predisposti degli spazi destinati alla sosta gratuita dei veicoli di chi è in gravidanza o dei genitori con bambini di età non superiore ai due anni. L'Aggiunta infatti ha approvato la proposta di deliberazione che è stata predisposta dalla Direzione Quinta Polizia Municipale, cioè d'affari legali e contratti. Un'iniziativa dell'amministrazione che permetterà di avere in città 36 stalli di sosta, così come sono stati indicati, per le caratteristiche del territorio e dell'utenza. Nel documento elaborato dall'Unità Operativa Segnaletica Stradale della Direzione di Polizia Municipale. Grazie alle ordinanze emanate dal 1 gennaio al 9 novembre 2021, già 4 stalli sono stati realizzati e riservati alle auti al servizio di persone con disabilità dotate di apposito contrassegno. E comunque l'ente aveva già provveduto a rendere in quest'ultimo caso gratuita la sosta negli stalli di sosta a pagamento. Condizioni che permetteranno inoltre al Comune di rientrare nei termini e requisiti richiesti ai sensi del decreto ministeriale del 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e chiedere così un contributo di 20.000 euro. La Giunta, attraverso la deliberazione inoltre indica la persona che dovrà presentare l'istanza di contributo attraverso l'apposita piattaforma informatica istituita dal Ministero, e cioè il dirigente e comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga. Al dirigente della Polizia Municipale viene dato mandato inoltre di adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'area di sosta tramite l'installazione della segnaletica stradale e la conseguente emanazione dell'ordinanza di disciplina veicolare.